In apertura c'è la cronaca, una ragazza di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale che è avvenuto questa mattina, poco prima delle 7, sulla statale 16 Adriatica. Arianna Useinovic era alla guida di una Peugeot 206 che si è scontrata frontalmente con una Ford Fiesta condotta da un 34enne vicino alla Torre di Cerrano nel territorio del comune di Pineto. Secondo una prima ricostruzione la ragazza stava percorrendo la strada in direzione Silvi per tornare a casa quando per motivi in corso di accertamento si è scontrata con la Ford Fiesta. Il 118 ha soccorso le due persone che sono state trasportate all'ospedale di Atri dove Arianna Useinovic è arrivata già senza vita.